Mr. Pandiscia, San Cipriano che supera la Bolsa Netese, primo tempo piuttosto bloccato, avete creato tanto, forse mancava qualcosa in fase di finalizzazione? Eh, tutto ok, perché nel primo tempo abbiamo fatto benissimo, fino agli ultimi metri, poi abbiamo avuto una dozzina di occasioni da gol e la cosa negativa è proprio stata quella, il non concretizzare le tante occasioni create. Poi alla fine, al 45, siamo chiusi con questo gran gol di Olanda, la conclusione è più difficile, l'unica cosa negativa della giornata, perché poi non abbiamo subito direi neanche un tiro in porta, creando tanto abbiamo giocato il giusto, bene, bene. E ora massima attenzione per le prossime partite, quindi saranno facili. 2-0 all'inglese che vi permette di mantenere il gap davanti alla classifica, sarà un duello oppure secondo te potrebbe rientrare qualcuno? Ma sicuramente, tutto dipende da noi innanzitutto, sicuramente bisogna ancora tenere d'occhio sicuramente il San Cipriano, scusate, il San Quirico e la Superba. Sono due ottime squadre, lo sappiamo, hanno uno sganico importante, quindi fino alla fine bisogna tenere duro.